La macelleria di Vittorio di Natale mantiene sempre le promesse. Difatti saprete senz'altro quanto sia importante mangiare della buona carne ed è per questo che Vittorio, da anni, seleziona per voi i tagli migliori. L'esperienza di Vittorio vi garantisce la migliore carne bovina, suina, agnelli, salsicce e poliruspanti. Questa è una delle tanti ragioni che ti fanno fare la scelta di sempre. La macelleria di Vittorio di Natale, il punto di venta di carne macellata, più chic di Castellanese. E tra le tante cose buone non dimenticare le abitudini semplici e tradizionali di un tempo, il sapore di un pezzo di carne al fornello, in un red, in un pizzo, tutto ciò lo potrai trovare da Vittorio, che è sempre a tuo servizio. Macelleria di Vittorio di Natale, via Levardi 21, qui a Castellanese. Macelleria di Natale, via Levardi 21, qui a Castellanese.